buongiorno buongiorno a tutti benvenuti a questa nuova edizione della rassegna stampa occhio ai giornali buon inizio settimana a tutti voi cari telespettatori di fan tv ben ritrovati su questo canale il canale 17 del digitale terrestre in tutta la regione marche allora partiamo dal santo del giorno come facciamo di consueto come sempre vediamo il santo di oggi oggi la chiesa cattolica ricorda la beata cristina di stommel il sole è sorto alle 6 49 tramonterà alle 16 e 54 minuti diamo un'occhiata a trebimeteo.it il sito che si occupa di previsioni meteorologiche in tutta Italia noi chiaramente abbiamo aperto la pagina che riguarda le marche la mattinata si presenterà così con questa grafica con questa simbologia vedete nuvole sparse che poi man mano nel corso del pomeriggio daranno e soprattutto la sera daranno spazio invece a delle piogge anche intense e questa invece la mattinata di domani ecco questa è l'immagine della giornata di domani vediamo le previsioni per oggi dalla protezione civile delle marche avremo dalla tarda mattinata ma come dicevo più in serata deboli piovaschi spassi che poi si intensificheranno nel corso del pomeriggio quando si estenderanno a tutto il territorio assumendo anche carattere di rovescio le temperature sono in diminuzione venti forti lungo la costa adriatica martedì 7 domani ancora durante la notte e nella mattinata di domani diffuse precipitazioni a prevalente carattere di rovescio in particolare nel settore sul settore centro settentrionale i fenomeni si esauriranno dalla tarda mattinata ancora in diminuzione le temperature e le condizioni di instabilità dovute a successivi impulsi di aria più fredda caratterizzeranno gran parte della prossima settimana dunque tempo incerto la prossima settimana allora iniziamo la lettura dei quotidiani i titoli con il Corriere Adriatico l'edizione di Pesaro il giornale delle Marche museo, palazzi, teatro e sale restyling in nome di Rossini una serie di lavori per il 150esimo anniversario della morte di Gioacchino Rossini una serie di lavori l'assessore Vimini dice perché è doveroso restaurare la tomba il calcio invece il calcio sulla prima pagina del Corriere serie C Brevi è il nuovo allenatore scelto dal Fano dopo l'esonero di Cuttone mentre la vis Pesaro vince e continua l'inseguimento due gol ai nero stellati per restare a meno tre dal Matelica che è capolista terza vittoria di fila la pagina di Fano del Corriere Adriatico tronchi depositati nella Golena Metauro a rischio esondazione la paura dei residenti di Tombaccia pericolo segnalato da luglio ma nessuno interviene dice Floriano Belluce esponente di un'associazione che a cuore tutta quella zona quel territorio che sta al di là del fiume Metauro anche un chilometro a monte ci sono alberi accatastati che fanno come dire un po' da tappo fresca e la memoria delle tracimazioni con allagamenti e gravi danni nella zona avvenuti ormai una decina di anni fa a Cartoceto c'è stata ieri una inaugurazione importante bagnata e fortunata del festival dell'olio e dell'oliva olio extravergine un olio DOP di grande qualità a Cartoceto tanto pubblico con la pioggia apprezzati animazione per bambini e anche i concerti e poi sotto sempre sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico il Carnevale e i Bambini giornale cubano auspica uno scambio con la città di Fano nel segno dei più piccoli la cronaca sul quotidiano delle Marche strage sul rettilineo maledetto tre giovani morti in un frontale a Falconara a schianto fatale per una coppia di finanzati anconetani e per un ragazzo di Montemarciano nessun testimone vetture distrutte Adriatica chiusa per due ore una delle auto ha invaso l'altra corsia ecco l'immagine devastante di questo terribile incidente terribile schianto nella quale hanno perso la vita questi tre giovani Mattia Bressanne di 21 anni barista di Montemarciano Giuseppe Babici 35 anni che lavorava alle poste e Francesca Traferri 35 anni tifosa dell'Anconitana andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico Senigallia un pallone al posto dello spumante il titolare della giostra si è scusato al bambino di 11 anni cambiato il premio le forze dell'ordine passano al setaccio il Luna Parca controlli a tappeto da parte di vigili e polizia intervenuti anche in Borghese dopo il caso della bottiglia di spumante vinta da un bambino di 11 anni sabato pomeriggio il giostraio nel frattempo si è scusato sostituendo il premio alcolico con un pallone decisamente più consono alla sua giovane età non si ferma al Rosso in seguimento della polizia l'automobilista guidava ubriaco scattano denuncia e sequestro del mezzo andiamo sulle pagine pesaresi del Corriere Adriatico e siamo a parlare della notizia che ha un richiamo in prima pagina musei, palazzi, sale, teatro Rossini si celebra nei luoghi i festeggiamenti del 150esimo non prevedono solo rassegne ed eventi ma anche interventi per la maggior parte dei progetti sono già individuate le risorse economiche di riferimento l'altra pagina invece di Pesaro del Corriere i cavalcavia dell'Adriatica sono a prova di tir e yacht i ponti delle vie Lamarca e Colbe sopportano fino a 32 tonnellate tutto questo perché come si evidenzia in questa fotografia dall'immagine di questo ponte che si trova in via Lamarca a Pesaro insomma non è che sia molto rassicurante vedere una una immagine di questo genere stando e fotografando il ponte da sotto però la rassicurazione arriva i ponti sopportano fino a 32 tonnellate sono a prova di grandi tir e anche di yacht i risultati delle verifiche volute dal Comune di Pesaro ora interquartieri e anche controlli sul cavalcaferrovie poi strisce pedonali vicino alla nuova rotatoria la richiesta dei residenti domani il secondo rondò poi tocca a Borgo Santa Maria sempre sulle pagine del Corriere Adriatico il giornale più letto dai pesaresi morti bianchi a Pesaro la maglia nera patto tra Stato Asur Anmail e Avvocati numero in aumento gli infortuni sul lavoro nei primi otto mesi un convegno adesso con il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri incontro tra Comune e proprietà per i residenti a Lido siamo sempre a Pesaro vedete la lastra che si è staccata di cemento caduta dalla sommità di questo tello tell Lido a Pesaro la scorsa domenica a causa delle forti raffiche di vento e allora c'è questo incontro tra il Comune e la proprietà per i residents ho detto prima residenti ho sbagliato per i residents a Lido e la Renco si sposterà questa è la notizia poi andiamo invece ad Acqualagna dove in questi giorni anche ieri si è celebrato il tartufo il tartufo d'oro per innamorati di New York la pepita di Acqualagna che pesa quasi mezzo chilo dovrà onorare la tavola di una festa di finanziamento il prodotto di una coltivazione controllata è la prova di un'economia trainante e di un brand di successo la cronaca sempre sulla pagina di Pesaro e provincia del Corriere Adriatico litiga con l'ex e le strappa il cellulare un ventenne adesso finisce nei guai arrestato per rapina acceso di verbio nella notte a Pesaro in via Trometta tutti i dettagli nel giornale che potrete acquistare oggi in edicola gli ospedali minori depotenziati senza adeguare quello di Urbino l'assessore guidi critica la riforma e incalza Mechelli sulla sede di Area Vasta dice Massimo Guidi assessore all'istruzione di Urbino la testa della struttura deve stare dove c'è il corpo a Fano non ha senso Vigili del Fuoco nuova caserma con energie rinnovabili il progetto presentato dal sindaco di Maceratta Feltria Arcangeli meriti a Vannucci e anche a Morani Valle del Cesano invece in primo piano furti in due abitazioni ladri braccati nel bosco ricerche notturne per cinque ore con i carabinieri partecipa anche il sindaco di Pergola per dare la caccia a questi furfanti modesto bottino di monili d'oro e posate d'argento un ride interrotto poi la banda chiaramente si è messa in fuga senza casa l'associazione che da cibo e vestiti ai poveri scade per MoMA 5 il comodato d'uso gratuito del magazzino appello a Marotta per una nuova una nuova sede l'istrice invece trovato da due giovani a bordo della cesanense ecco la fotografia è stato soccorso questo istrice investito lungo la strada però purtroppo non si salva aveva la colonna vertebrale compromessa da diversi giorni e quindi è morto Corriere Adriatico che come dicevamo la settimana scorsa ha ampliato il suo bacino di utenza e quindi adesso ha anche la pagina dedicata alla Romagna si sta un Corriere Adriatico che sta diventando sempre più grande ambulanze e posti per disabili ridefinito il puzzle per la sosta a Cattolica il comune apporta delle modifiche agli stalli della zona del centro il Carlino la pagina di Pesaro è per i tartufi tartufi a peso d'oro abbiamo visto prima la notizia praticamente introvabile per la siccità prezzi alle stelle ad Acqualagna 6.000 euro al chilo e poi le multe incassate solo la metà irrecuperabili 7 milioni di tasse il comune di Pesaro non è tra i più virtuosi per i tributi l'introito del 2016 si ferma al 79,8% e poi andiamo sulla pagina invece di giorno e notte la pioggia non guasta tutto liscio come l'olio buona la prima al cartocetto DOP festival nonostante il disturbo pomeridiano della pioggia che ha bagnato anche il momento del taglio del nastro delle ore 15 ha richiamato un buon pubblico la prima domenica di cartocetto DOP il festival la 41esima edizione della mostra mercato dell'olio e dell'oliva ok è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa grazie per la vostra cortese attenzione vi ricordo che al 338 4968250 potete come sempre inviarci le vostre segnalazioni le fotografie i video partecipare dunque e collaborare con la nostra redazione per cucinare il telegiornale che vi prepareremo come sempre per le 20 e 30 a voi tutti l'augurio di una buona giornata arrivederci a presto